Un uomo di 42 anni, di Padule di Gubbio, è morto nelle prime ore del poveriggio di oggi sulla strada statale 219, la Piandassino, a causa di un incidente stradale. Stando a quanto riferiscono i vigili del fuoco, il sinistro ha coinvolto tre auto tra gli svincoli di Torre Calzolari e Padule, al chilometro 12 più 800. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i carabinieri di Gubbio, più il personale sanitario del 118, cui è rimasto l'ingrato compito di certificare la morte. La persona deceduta è un 42enne, residente a Padule, nel comune della città dei Ceri. Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità.